Stand Sony, stiamo guardando il nuovissimo Xperia Z2, uno smartphone da 5.2 pollici e con sistema operativo Android 4.4. La grande novità di questo smartphone è la fotocamera da 20 megapixel che ha la possibilità di registrare video in 4K, cioè video in risoluzione ad altissima fedeltà, una risoluzione che sta nascendo proprio in questi mesi e che l'Xperia Z2 riesce già a registrare, ovviamente ci vogliono poi schermi, monitor compatibili per poterne apprezzare la qualità. Molto interessante è anche questo display che riesce ad offrire una qualità delle immagini davvero impressionante. Possiamo visualizzare dei video e delle foto dalla relativa galleria, abbiamo visto qui la personalizzazione di Android, la possibilità di sfogliare ovviamente le varie schermate, i vari widget, qui c'è anche il Google Chrome per la navigazione internet, il Meteo, un dispositivo molto interessante, vi faccio vedere velocemente anche la parte laterale con la possibilità di inserire una micro SD e la parte posteriore, realizzata in materiale molto molto interessante dal punto di vista qualitativo, insomma un dispositivo molto interessante, soprattutto, ripetiamo, per la possibilità di registrare i video in 4K.